Oggi, Sant'Anna, si è svolta la tradizionale festa patronale. Dalle 9 del mattino, oltre 200 bancarelle come tradizione si sono posizionate in tutto il centro storico. Alle 18 si è svolto anche il mercatino delle piccole pulci, dove bambini e ragazzi hanno messo in vendita tutto quello che non usano più. Ed il ricavato è stato messo a disposizione della Caritas di Arco, che lo distribuirà alle famiglie bisognose. Alle 20 la messa in Piazza Sant'Anna, cui è seguita la tradizionale distribuzione di anguria, formaggio, pane e vino, grazie al comitato che da ormai 38 anni si occupa di valorizzare lo storico Rione. La novità di quest'anno è la gara di tiro alla fune a partire dalle ore 21 in Piazzale Segantini. La novità di invocare su di noi la solenne benedizione nella festa di Sant'Anna. Permettete un ringraziamento davvero al comitato dei festeggiamenti di Sant'Anna per quanto hanno fatto e faranno anche da qui in avanti. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato naturalmente questo nostro stare insieme. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. E un ringraziamento poi anche al coro che ha solennizzato di Sant'Anna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.